Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, nella lezione di oggi impareremo a risolvere un particolare tipo di equazioni goniometriche, e cioè quelle riconducibili a equazioni elementari. Cominciamo con il primo esercizio. La consiglia è questa, risolvere in R la seguente equazione. Allora, innanzitutto vediamo che nell'equazione abbiamo solo la funzione seno. Nel primo termine compare al quadrato, nel secondo la prima potenza e poi abbiamo un termine noto. Quindi questa equazione è riconducibile ad una equazione in secondo grado con una sostituzione sen x uguale t. Quindi se noi facciamo questa sostituzione, cioè utilizziamo questa variabile ausiliaria, otteniamo 2t quadro più t meno 1 uguale 0. Quindi un'equazione in secondo grado è completa in t, che noi risolveremo. Ci segniamo i coefficienti, a uguale 2, b uguale 1, c uguale meno 1 e calcoliamo il delta. Quindi delta uguale b2 meno 4ac uguale, quindi 1 al quadrato meno 4 per 2 per meno 1. Quindi uguale 1 più 8, delta uguale 9, delta è maggiore di 0. Abbiamo, quindi, l'equazione ammette due radici reali distinte, che ora ricaveremo con la formula risolutiva. Quindi t1, 2 uguale meno b più o meno radice di delta diviso 2a. Quindi il nostro caso diventerà meno 1, più o meno. Allora, il delta vale 9, quindi radice di 9 fa 3, più o meno 3, fratto 2 per a, quindi 2 per 2 è 4. Quindi avremo due soluzioni, una col segno più e una utilizzando il segno meno, quindi sarà meno 1 più 3, fratto 4, meno 1 meno 3, fratto 4. Quindi la prima soluzione sarà due quarti, cioè semplificando un mezzo, e la seconda meno 4 quarti, quindi semplificando meno 1. Quindi la risoluzione dell'equazione di 2 se in quadro x più seno di x meno 1 uguale a 0 si riconduce alla soluzione, oppure le soluzioni di questa equazione saranno le soluzioni delle due equazioni di quadri elementi elementari, seno di x uguale a un mezzo, seno di x uguale a meno 1. Allora, risolviamo queste due equazioni di quadri elementi elementari. Incominciamo dalla prima, seno di x uguale a un mezzo, quindi sfruttiamo appunto la, utilizziamo appunto la conferenza di quadri elementi per rappresentare graficamente le soluzioni. Incominciamo, seno di x uguale a un mezzo, quindi seno di x uguale a un mezzo è la prima equazione di quadri elementi elementari. Allora, dalle tabelle verifichiamo che l'angolo di cui seno vale a un mezzo è 30 gradi, se usiamo il sistema sessagesimale, oppure pi greca a sesti se usiamo il sistema dei varianti. Per semplicità utilizzeremo i gradi sessagesimali, quindi x uguale a 30 gradi, e poi avremo praticamente l'altra soluzione che sarà l'angolo supplementare. Ma procediamo per passi. Innanzitutto individuiamo il punto di ordinata, appunto, un mezzo, e lo indichiamo sull'asse delle y. Tracciamo la retta che passa per quel punto parallelo all'asse delle x, eccola qui, e uniamo i punti in cui tutta la retta, la retta di equazione è appunto y uguale a un mezzo, in terza che la circolazione goniometrica, uniamo questi due punti con l'origine degli assi. in questo modo rimangono individuati gli angoli che sono le soluzioni di regazione goniometrica elementare. Quindi segniamo, appunto, il primo angolo che è appunto 30 gradi, e l'altro angolo sarà il super elementare, quindi 180 meno 30, e cioè 150 gradi. Quindi, la prima occasione goniometrica elementare ha soluzioni x uguale 30 gradi più k 360, oppure x uguale 150 gradi più k 360. k 360, vi ricordo, è la pericità della funzione seno. Ok, andiamo a risolvere la seconda equazione elementare, che è seno di x uguale meno 1. Quindi, diciamo che meno 1 è un numero, appunto, negativo. Dalle tabelle vediamo che l'angolo il cui seno vale meno 1 è 270 gradi, o 3 pi greca a mezzi, quindi è questo. Quindi, x uguale 270 gradi più k 360, e poi avremo il super elementare, quindi x uguale 180 gradi meno 270 più k 360. quindi x uguale 270 gradi più k 360, oppure x uguale meno 90 più k 360. adesso, se voi ha avuto, guardate, ha avuto la circonferenza goniometrica, meno 90 è effettivamente lo stesso angolo, ma visto, da un altro punto di vista, quindi diciamo che meno 90 è 270 gradi, sono soluzioni identiche, ok? Rappresentano lo stesso angolo. Quindi le soluzioni dell'equazione, di partenza saranno x uguale 30 gradi più k 360, x uguale 150 gradi più k 360, e x uguale 260 gradi più k 360. E l'equazione, appunto, è risolta. Ok, andiamo avanti, e risolviamo quest'altra equazione. coseno di 2x meno seno di 2x per tangente di x uguale 0. Allora, qui ovviamente figurano tre funzioni goniometriche, coseno, seno e tangente. Noi dovremo trasformare questa espressione, primo membro, in modo a far compare una sola funzione goniometrica, per poterla risolvere. Quindi cosa facciamo? Utilizziamo le formule di duplicazione del coseno, le formule di duplicazione del seno, e poi esprimeremo la tangente come il rapporto tra seno su coseno. Quindi utilizzeremo la seconda relazione fondamentale della goniometria, e le scriviamo di al lato. Quindi coseno di 2 alfa, cioè di 2x, quindi in questo caso, uguale cos quadro x meno sen quadro x, seno di 2x è uguale a 2 per sen x per cos x, e poi tangente di x uguale sen x tratto cos x. Sostituiamo la nostra equazione e avremo coseno al quadrato di x meno seno al quadrato di x meno 2 volte sen x per cos x per sen x tratto cos x uguale 0. Quindi possiamo semplificare coseno di x e facciamo i calcoli. Quindi abbiamo coseno al quadrato di x meno seno al quadrato di x, qui otteniamo meno 2 volte seno al quadrato di x, uguale a 0. Ora, il cos quadro di x lo possiamo esprimere in funzione del seno, utilizzando la prima relazione fondamentale, cioè cos quadro x più sen quadro x uguale 1. Quindi cos quadro x lo possiamo scrivere come 1 meno sen quadro x. E lo facciamo. Quindi diventa 1 meno sen quadro x meno, questi due li possiamo sommarli, diventano meno 3 sen quadro x, uguale a 0. In definitiva, otteniamo 1 meno 4 per sen quadro x uguale a 0. Cambiamo disegno e diventa 4 sen quadro x meno 1 uguale a 0. Anche questa è un'equazione in cui la funzione seno compare solo al secondo grado. passiamo alla variabile t, quindi effettivamente la sostituzione seno di x uguale a t, e l'equazione diventa 4t quadro meno 1 uguale a 0. Quindi è un'equazione pura. Le cui soluzioni sono appunto 4t quadro uguale a 1, dividiamo per 4, prima il secondo membro, quindi t quadro uguale a 1 quarto, e quindi t uguale più o meno 1 mezzo. Quindi noi dovremmo risolvere le due equazioni di guadagnometri elementari, sen x uguale più 1 mezzo, e sen x uguale meno 1 mezzo. Procediamo. Allora, qui abbiamo già le ciconfrenze goniometriche che ho predisposto, in modo che la soluzione delle equazioni diventi agevole. Cominciamo con la prima, sen x uguale più 1 mezzo, che avevamo già risolto nell'esercizio precedente, quindi diventa x uguale a 30 gradi più k 360, quindi come prima noi faremo appunto, prendiamo il punto di ordinata 1 mezzo, traceremo la retta parallela all'asse delle x che passa per questo punto, uniremo appunto gli estremi, i punti intersezione, di cosa resa con la ciconfrenza goniometrica con il centro, della stessa, e praticamente otteniamo appunto gli angoli di 30 gradi e 150 gradi. Quindi 30 gradi e poi supplementare che sarà 150 gradi. Quindi x uguale 150 gradi più k 360. Ora risolviamo sen x uguale meno 1 mezzo, quindi tracciamo sulla seconda circonferenza che ho già predisposto la retta che passa per il punto di ordinata meno 1 mezzo, sarebbe questa, all'incirca, e individuiamo gli archi, gli angoli, che sono soluzioni dell'equazione nella stessa maniera. Con il ragionamento di cui vi ho già parlato nelle lezioni precedenti, dobbiamo sempre trovare, appunto togliere un segno a meno, l'angolo il cui segno a meno 1 mezzo. L'angolo il cui segno a meno 1 mezzo è 30 gradi. Quindi questo angolo sarà 30 gradi e questo angolo sarà 30 gradi. Per cui le soluzioni saranno x uguale 180 più 30, quindi farà 210 gradi, 210 gradi più k 360, oppure x uguale, il supplementare sarà 180 meno 210, quindi meno 30 gradi, più k 360. Ok, l'esercizio appunto si conclude qua, la lezione è conclusa, grazie per l'attenzione, arrivederci. Grazie per l'attenzione,